Prendi una carta, una anche tu. Io mi giro, fatela vedere in camera e l'importante è che ve la ricordate anche voi, è fondamentale. Allora la carta metterla qui, la carta metterla qui. E ricordate, questo è fondamentale. La cosa importante da fare è utilizzare questo qui, questo assistente in legno. Come vedete qui sotto praticamente ha una vaschetta e qui sopra c'è una altra. Quindi quello che faremo è prendere il massimo di carte e andarla a mettere così, nella vaschetta inferiore. Ok, quindi adesso io andrò a prendere delle carte da sotto e le sposto in sopra. da sotto e le metto sopra. E vado avanti per un po' da sotto e le metto sopra. Quando volete metterle sopra, va bene? Vi farò vedere con la carta. Quindi io prendo le carte da sotto e la metto sopra. Da sotto e la sposto sopra. Sì, sei sicuro? Sicuro. Che carta hai scelto? Ho scelto due di fiori. Due di fiori? Infatti ho scelto due di fiori. E continuiamo. Io prendo una carta da sotto e la sposto nella tasca di sopra. Da sotto ne vado un'altra e la sposto nella tasca di sopra. Via dicendo. La tasca sotto, ne sposto una nella tasca di sopra. Stop! Su questa carta? Sì. Carta di scelto? Regina di quadri. La regina di quadri, infatti, è la regina di quadri. Sì. Grazie.